Ma io faccio altro, in questo momento non sono come Amsic che sta smettendo di giocare, io ho già smesso e ho altri incarichi in questo momento. Poi sapete, è inutile che chiedete a me se un domani mi piacerebbe, l'ho fatto da calciatore e lo farei in qualsiasi momento, però al di là di questo, no no, il ruolo mio è ben deciso, Marek non sa ancora cosa fare nel calcio, è in via di decisione. Io penso, ma è un'opinione mia, che personaggi come Marek sono da tenere in società, ma non lo dico né perché conosco Marek o né perché devo fare sviolinate. È un ragazzo a posto, è un ragazzo serio che ha sposato Napoli, non essendo napoletano, probabilmente resterà a vivere qui, quindi quale cosa migliore di tenere in casa una persona così. Così come anche altri hanno dimostrato di essere potenziali uomini societari.